Buongiorno, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, centro psicopedagogico per l'undicazione e la gestione dei conflitti. Benvenuto, professore. Eccomi, buongiorno, buonasera, buongiorno a tutti. Eccomi qua. Professor Novara, il fenomeno Squid Game ha acceso i riflettori sul rapporto tra violenza e giovani. Pensiamo ad esempio a tutte le serie dei giochi come GTA nel mondo del gaming, al libero accesso alle serie TV on demand e dalle sfide, le famose challenge nei vari social, in particolare TikTok. Presidi e genitori sono preoccupati per il fenomeno emulazione. Come sta cambiando questo rapporto e quale dovrebbe essere il giusto approccio degli educatori, siano essi docenti o genitori? Beh, è evidente che negli ultimi due anni, in particolar modo, ma anche precedentemente, c'è una specie di ritiro progressivo dei giovani nel mondo virtuale. E quindi la frequentazione di questi videogiochi, non so, prendiamo gli sparatutto, no? dove succede di ogni... E la preoccupazione non è tanto e non semplicemente per i videogiochi, ma ovviamente per l'età in cui ci si avvicina. Facciamo un esempio, Call of Duty è uno dei videogiochi più famosi, in teoria in Italia è vietato ai minori di 18 anni. Ma sono tanti i genitori che giocano con i bambini, addirittura di 8 o 9, come se fosse la cosa più normale di questo mondo. La mia preoccupazione attualmente è legata alla scarsa capacità del mondo adulto di sintonizzarsi con l'età dei bambini, per cui ci si mette sempre più alla pari. E se va avanti così, ci immaginiamo un mondo in cui a 9 anni un bambino guarda i film porno con suo padre, ecco. Ma sono cose nefaste, non appartengono all'educazione, appartengono a un aspetto molto promiscuo nelle relazioni di genitori e figli. Bisogna recuperare titolarità educativa. E' logico che oggi come oggi la società non aiuta i genitori. Chiunque vada ad acquistare videogiochi, non è che appare con evidenza una segnalazione pedagogica. Ma l'importante è che il genitore comperi, comperi, comperi. Adesso siamo anche in periodo di regali. Ovviamente io sono dell'idea che i bambini hanno bisogno di regali pratici, sensoriali, non di regali virtuali. Una palla di gomma piuma da giocare in casa è decisamente più importante. Oppure il gioco dell'ego. Abbiamo bisogno di tornare a vivere i giochi, poi anche i giochi di società, in maniera così pratica, operativa. Quello che mi preoccupa è il mondo virtuale. L'eccesso di virtualità toglie spessore all'esperienza. Non so, pensiamo al fenomeno delle risse tra i 14 anni e i 15 anni, che c'è praticamente in tutta Italia. Ma come facciamo a non sospettare che questi ragazzi abbiano perso i confini fra un videogioco e la realtà? Per cui si buttano in una rizza come se stessero frequentando uno sparatutto su un monitor. Così come i ragazzi che vanno a scaricare un estintore per fare una bravata senza neanche sapere che è un reato penale, poi si trovano nei guardi. Ecco, c'è una perdita di esperienza concreta nei giovani che è preoccupante. Ma la cosa più preoccupante è ovviamente quando il videogioco è in mano letteralmente dei bambini di 7-8 anni. Ecco, i bambini di 7-8 anni hanno bisogno di fare esperienze concrete, di correre su un prato, di vivere nello sport, di stare con i suoi compagni, di passare il tempo su YouTube a guardare dei ragazzini che giocano sui giochi. Ecco, questo è un altro elemento molto inquietante. In altre parole, i bambini imparano attraverso il gioco, ma se il gioco è sbagliato, cosa imparano? Ecco, il gioco giusto è quello con i coetani, un gioco sensoriale, un gioco motorio, un gioco concreto, un gioco sportivo, un gioco che permette ai loro corpi, anche di scaricare tutta la tensione di questi due anni di lockdown, di questi due anni di isolamento. Ecco, abbiamo bisogno estremo di farli, com'è che si dice, lo sgambamento, lo abbiamo previsto per i cani, ma con i bambini siamo molto più elastici, diciamo. Ecco, molto importante, un bambino che si passa tre ore davanti a un videogioco è in pericolo. I ragazzi purtroppo che non vanno a scuola, ce ne sono tanti, ormai sono percentuali piuttosto significative, penso e volentieri si perdono sui videogiocchi. Importantissimo per i genitori, fare in modo che i dispositivi digitali non siano presenti durante il sonno. quel sonno non può essere perturbato da un eccesso di videoschermi, di videogiochi. Tuttegliamo il sonno dei nostri figli, dei nostri ragazzi, ecco, altrimenti una ragazza che, un ragazzo che non dorme in primis non riesce a combinare niente a scuola, in secondis la sua vita è così, in un stato sempre molto confusionale, ma dato a parte se ci sono quei videogiochi compensativi per cui devono sempre passare da una fase all'altra, da una tappa all'altra, da un guadagno all'altro e anche di notte si sentono ingaggiati, impegnati. Lo stesso vale per i social, intendiamoci. Abbiamo bisogno di mettere dei limiti. Io mi sono sempre chiesto in questi anni se questi limiti potessero metterli i genitori da soli o se fosse necessario un intervento anche normativo, legislativo. Sappiamo che spesso volentieri i videogiochi hanno un limite di età, ne ho segnalato uno precedentemente, ma anche i social avrebbero il limite per un discorso di privacy dei 13 anni. chi li rispetta, ecco, forse le autorità, il sistema pubblico, la comunità di adulti dovrebbero rendersi conto che la situazione sta prendendo una piega molto molto preoccupante e molto critica e che forse pensare a qualcosa come si è fatto per l'alcol e per il tabacco sarebbe utile. Io da tempo che lo auspico, ma l'Italia va in una direzione avversa, ad esempio è uno dei pochissimi paesi se non l'unico che permette a un bambino di otto anni di avere un numero di telefono per conto suo, basta la firma di un genitore. Ecco, i confini dell'età vanno rispettati, i bambini hanno bisogno di giocare su un prato, non su un monitor. Ecco, un aspetto che volevo sottolineare dalle sue parole perché lei ha fatto vari passaggi molto interessanti e mi premono un paio in particolare questa differenza tra virtuale e reale. Lei cita appunto un passaggio della Montessori che diceva che la mano è lo strumento della conoscenza quindi la praticità, la manualità che spesso alcuni insegnanti anche di scuola elementare o dell'infanzia dicono che i bambini non sanno più giocare all'aperto si vedono quasi spaisati c'è questo bisogno quasi di educare al gioco pratico molto buttati sul virtuale che quasi hanno dimenticato la praticità del gioco Morello ci dice che noi dobbiamo insegnare a vivere queste persone quando è importante questo aspetto? Certo da un lato i bambini hanno una memoria ancestrale sui giochi cioè se tu prendi un gruppo di bambini immediatamente spontaneamente si organizza per fare dei giochi sono giochi motori più classico è corrersi dietro no? il genitore dice ah non correte non corretevi dietro corrersi dietro è un gioco non è una trasgressione oppure salire un altro gioco motori molto tipico dei bambini è salire quindi se c'è un ripiano ecco che salgono si buttano salgono si buttano non è il bambino che vuol mettersi in pericolo ma una modalità di gioco quindi esistono delle forme ancestrali di gioco di gioco infantile a limite anche spingersi è una forma ancestrale di gioco infantile che ne so acchiapparsi un po' come nel rugby sono forme ancestrali poi esistono come dire le forme culturali che in qualche modo si sottrappongono se io gioco a un 2-3 stella che è un gioco appunto che abbiamo imparato a conoscere purtroppo con una serie tv molto molto discussa e molto inquietante per i bambini squid game però un 2-3 stella è un gioco meravigliosissimo perché è un gioco anche di controllo motorio no e che si basa appunto su quella cioè sulla capacità del bambino di fermarsi mentre corre quindi c'è come dire una predisposizione che viene inserita su una un ambiente ludico che è regolato come può essere anche il gioco della bandiera no anche lì un gioco di corrersi corersi dietro uno con l'altro quindi la base motoria del gioco infantile però dentro delle regole delle regole delle regole particolari ed è come dire una una situazione meravigliosa da questo da questo punto di vista perché consente di fare degli apprendimenti veri e propri se viceversa questi giochi li mettiamo semplicemente su una tastiera non è la stessa cosa non è che possiamo giocare a bandiera sulla tastiera non è che possiamo giocare a campana sulla tastiera non è che possiamo giocare a nascondino sulla tastiera nascondino che è un altro ecco mi stavo dimenticando anche il tema infantile del nascondersi no che ne so se in casa c'è un baule o un armadio siete sicuri cari genitori che il vostro figlio a partire dai due a tre anni ci si va a nascondere perché il nascondino è come dire qualcosa di molto ancestrale una volta i bambini giocavano nella natura oggi giocano anche anche nelle case negli armadi sotto i tavoli l'importante è nascondersi quindi questa tipologia dei giochi non potrà mai essere sostituita dal gioco virtuale così come lo sostenevo quest'estate e ne abbiamo parlato anche qui su Orizzonte Scuola la penna non può essere sostituita dalla tastiera cioè sono alcuni apprendimenti fra il ludico il motorio il sensoriale che hanno una base pratica esperienziale possiamo pensare di sostituire tutto ecco sul piano sul piano virtuale per cui l'assist che ci dà ancora una volta la grande Maria Montessori è straordinaria cioè la mano però oggi vorrei dire anche questo perché mi è capitato di andare su dei siti e trovare che vengono vendute le fasce per i neonati la fasciatura cioè viene riproposta la fasciatura ai neonati ecco io dico ma siamo proprio messi male cioè ti dobbiamo considerare che la pedagogia moderna 1762 quando Jean-Jacques Rousseau scrive l'Emilio uno dei primi paragrafi è dedicato proprio a liberare i bambini e le bambine dalle fasce che è una incombenza terribile in pratica venivano bloccati questi poveri neonati con le mani con le braccia le mani perché non si facessero male le braccia perché venissero su dritte ovviamente poi sia la moderna pedagogia che la moderna pediatria ha mandato queste idee alle ortiche il bambino deve essere libero e dalle mani che il neonato impara dalle mani che non può usare le mani perché è fasciato allora io mi chiedo ma come mai stanno venendo fuori delle idee così scombinate cioè senza base scientifica ecco c'è una perdita di conoscenza di pedagogia come dire proprio di sapere educativo che rischia di diventare pericoloso qualche genitore può dire ah sì giocano giocano assieme sul computer signora non è la stessa cosa che giocare nascondino nel vero senso della parola non è la stessa cosa e questo deve essere molto chiaro poi ovviamente va bene anche come dire una giusta misura di gioco virtuale per carità non è che non ho nessuna intenzione di demonizzare però deve essere una misura se un bambino in prima elementare non può stare più di mezz'ora al giorno secondo me è che è anche una misura scientifica diciamo davanti ai video schermi e comunque è meglio una divisione che è un po' lontana non ha quella portatilità che può risultare sconveniente per un bambino che si trovi in mano un aggeggio e quasi che fosse il suo cagnolino no non è il suo cagnolino è meglio mettere la distanza giusta quindi il mio anche come dire se proprio bisogna lasciare i bambini davanti a un video schermo secondo me meglio la televisione poi ci sono ottimi programmi sui su internet benissimo usiamoli ci vuole una guida da parte dei genitori non guardare insieme i puffi ma aiutare i bambini e anche i ragazzi a usare bene gli strumenti che la tecnologia digitale ci opera perché sono delle sai tutorial tutorial io li trovo molti sono bellissimi straordinari non c'è nulla di male no e quindi facciamo da guida ai nostri figli guida educativa ecco mi allaccio a queste assolute parole e anche a quello che ha detto prima perché lei parlava anche c'è un discorso del limite questa incapacità di dare le regole e c'è proprio un vero e proprio problema di vigilanza ad esempio videogiochi e serie tv hanno una classificazione in base all'età pensa alla classifica peggi dei videogiochi anche i social hanno un limite di utilizzo legato all'età tuttavia queste classificazioni spesso sono sottovalutare permettendo l'accesso materiale non idoneo all'età del bambino quali sono i rischi a cui si va incontro? ma i rischi sono quelli di squid game squid game è sostanzialmente una serie dell'orrore no? perché c'è una situazione normale come nei film dell'orrore no? tu vai a fare un weekend in montagna weekend in montagna e poi improvvisamente weekend in montagna compare un serial killer e poi scopre che il serial killer è direttamente nella compagnia con cui si è andato a fare il weekend in montagna è chiaro che sono situazioni agghiaccianti un bambino di 7, 8, 9 anni non li regge sul piano emotivo ma Liliana Segre ricordava qualche anno fa di non portare i bambini sui luoghi delle tragedie tipo i campi di sterminio di concentramento perché non sono in grado lei diceva fatelo a partire dai 12 anni benissimo cioè ogni cosa ha suo tempo in altre parole il bambino avendo un pensiero o sensitivo fino ai 6 anni o operatorio concreto fino ai 10 sono come dire le categorie piagettiane diciamo è un omaggio a chi ha studiato questo grande scienziato Jean Piaget e che in qualche modo abbiamo tutti ripassato alla scuola magistrale perché ha fatto poi la maestra in queste due modalità concrete neurocelebrali il bambino comunque non ha un pensiero così evoluto così razionale per capire la distinzione e quindi entra dentro nel film in maniera naif è come se in qualche modo quella realtà non fosse una realtà fittizia artefatta puramente recitata ma fosse una realtà nel vero senso della parola e quindi sul bambino si ha un rebound e quindi è come quando tu urni a un bambino il suo sistema neurovegetativo finisce sotto pressione ecco non abbiamo bisogno di mettere il sistema neurovegetativo e neurocognitivo dei bambini sotto pressione perché siamo così sbadati da consentirli di finire su un un sito dell'orrore un sito porno dei giochi sbagliati ecco occorre da un lato la quantità la quantità importantissima ecco diciamo che quinta elementare un'ora di videoschermi compreso la tv è anche troppo però se un bambino ha tre anni noi possiamo pensare che ogni giorno stia un'ora davanti ai videoschermi deve essere una misura molto molto limitata 5 10 minuti qualcosa di estremamente ridotto e poi il problema di cosa guardano non devono essere contenuti traumatici non so se mi spiego perché poi lasciano dei segni proprio sulla memoria sulla memoria e quindi si ripercuotono sulla loro capacità di selezionare le esperienze della vita solo facendo esperienza il bambino impara non stanno lì passivo a ricevere contenuti dell'orrore ecco altro aspetto legato alla creazione di account sotto i 13 14 anni è il fatto che noi insegniamo a questi ragazzi a mentire a dire se mi fa comune una cosa le regole posso anche non rispettarle come che segnale stiamo dando a questi ragazzi penso che la risposta sia scontata allora io farei però una distinzione io come pedagogista non sono favorevole al mito della sincerità e della verità queste sono categorie religiose quindi verità sincerità sono virtù teologali in un certo in un certo senso adesso lo sto dicendo senza andare molto per il sottile ma per farmi capire non possiamo pensare che un bambino ti dica sempre la verità il bambino ti riporta la sua versione dei fatti se tu chiedi a un bambino hai litigato oggi a scuola no mi hanno picchiato mamma le scuole che le scuole frequenti allora la mamma telefona o vede la maestra dice signora come mai il mio figlio è picchiato a scuola e la maestra candidamente ti risponde signora stia tranquilla è lui che picchia gli altri no i bambini hanno centomila versioni li ascoltiamo per carità benissimo però vogliamo costruire che è un cervello molto molto immaturo ma il cervello dell'adolescente ancora di più è un cervello opportunista ecco e quindi sempre lì che ne so cercare soldi a dire che a Natale tutti i suoi compagni hanno cambiato lo smartphone e lui no poverino e quindi fa tutto uno spiegone alla famiglia prende papà la mamma c'era dice abbiamo problemi economici ci siamo impoveriti non siete in grado di comprarmi no lo smartphone che hanno tutti i miei compagni ecco è chiaro che ognuno gioca gioca la sua partita però indubbiamente favorire tutto questo senza alcun limite per cui non c'è di controllo l'antidoto è mantenere la vigilanza mantenerla una vigilanza educativa e perché non sappiamo cosa succede specialmente prendiamo Instagram adesso io canso di equivoci uso Instagram come metafora ce ne sono dei social senza altro peggio o meglio non mi interessa dico Instagram perché a un certo punto una dirigente di Instagram quindi di Facebook esce dalla società come abbiamo letto tutti i suoi giornali una signora sui 35-36 anni e attacca il fondatore di Instagram e di Facebook dicendo lo sapevate che questa roba faceva male alle ragazzine perché avevate fatto un'indagine di mercato ed era venuto fuori che la ragazzina si fa del male a esibirsi su Instagram perché se tu hai 11 anni e devi come dire mandare foto su Instagram per richiamare l'attenzione possiamo facilmente immaginare che tipologia di foto la ragazzina manderà le farà bene questo no no e quindi c'era stato un allarme un allarme su questa faccenda per cui occorre fare un'estrema attenzione perché l'età è importante e ci vuole maturità per stare su Instagram per esempio io penso che legittimamente a 11-12 anni una ragazzina non riesce a gestire Instagram non riesce proprio ma che immagini manda quindi dobbiamo come dire mettere in fila in fila tutto questo ricordarcelo e mantenere vigilanza che ne so poter avere accesso ai social della figlia un modo da dare un'occhiata ogni tanto ecco chiudiamo con un'ultima domanda e dando anche qualche consiglio lei professor Novara ha ideato e sviluppato il metodo maietico per la gestione dei conflitti quanto è importante questo l'utilizzo della domanda maietica del metodo maietico anche per la gestione della violenza dunque i conflitti per violenza sono due esperienze molto molto diverse e tutto il mio lavoro insomma più di 30 anni di lavoro forse anche 35 non ricordo ci sono sempre orientate su questo versante cioè di offrire attraverso ricerche metodi dispositivi delle opportunità per liberarci dalla violenza liberarci dalla violenza la cosa più importante che ho scoperto nei miei lavori scientifici a cui rimando tramite i miei libri è che l'antidoto alla violenza non dico le cause della violenza l'antidoto in tutti i casi è quello di saper affrontare le contrarietà cioè la violenza sembra essere fortissimamente praticata dalle persone che non sanno gestire le contrarietà ossia i conflitti intendiamoci spesso una violenza contro se stessi non necessariamente contro gli altri ma noi siamo molto disattenti sulla violenza autolesiva perché siamo più attenti alla violenza quella tradizionale però per esempio oggi i ragazzini e le ragazzine hanno una forte spinta a farsi del male a farsi del male verso verso se stessi e cosa cosa ho scoperto che chi sa litigare chi sa litigare bene perché si può litigare bene come litigare male chi sa litigare bene crea gli anticorpi per evitare la violenza sia in entrate che in usita cioè evitare di subire violenza evitare di generare violenza perché perché è in grado di fare le mosse giuste quando si trova in un contesto particolare quando gli altri ti perdono i piedi se un altro ti tampona la macchina a volte c'è da sperare di non aver a che fare con un energumeno so se mi spiego ma di per sé un tamponamento non è la fine del mondo esiste uno strumento che ha la constatazione amichevole di incidente che però ne trovi un energumeno devi sapere cosa fare per esempio non arrabbiarti stare tranquillo non fare commenti no non dirgli ma senta cosa ha fatto ma guardi qua ecco i commenti in un contesto di tensione sono molto molto pericolosi diciamolo così quindi la persona che sa litigare bene è in grado di gestire se stesso nelle situazioni di contro è quello che insegniamo col mio metodo litigare bene che l'abbiamo applicato tantissimo ai bambini dai 3-10 anni con una ricerca molto importante nella zona di Torino e che mi sta dando soddisfazioni enormi ha girato anche tutta l'Europa questo metodo è veramente semplice ossia due passi indietro non bisogna cercare il colpevole non bisogna dare la soluzione ai bambini ma bisogna farli parlare tra di loro è meraviglioso una magia la magia maiertica appunto in cui facendoli parlare come diceva la grande Clotilde Pontecorvo grande psicologa italiana i bambini no le parole scusate servono lo dicono i bambini a litigare senza farsi male quindi dobbiamo aiutare i bambini a parlarsi quindi non deve essere come l'educatore che interviene nei litigi no dei bambini chi è stato chi ha cominciato no cos'hai fatto vieni qua dai un bacino dottimi la mano e dai forza no così non funziona dobbiamo restituire l'autonomia io sono molto orgoglioso del lavoro fatto sui liti sul aiutare i bambini a litigare con metodo no attraverso questa mia metodologia litigare perché ho abbattuto uno degli ultimi tabù pedagogici perché c'era ancora quando io ho iniziato a lavorare in ambito pedagogico l'idea che la bella classe è quella dove non si litiga male i fratelli bravi non litigano male la squadra di calcio giusta è quella dove nessuno dice nulla all'altro si va come dire all'unisono all'unisono no il problema non è eliminare i litigi fra i bambini che anzi sono un segnale di vitalità un segnale come dire anche di coraggio di voglia di crescere ma aiutare i bambini a litigare bene a chiarirsi tra di loro ed è meraviglioso io ho inventato tutta una serie di strumenti fra cui il conflit corna dove i bambini vanno parlano e alla fine dichiarano ci siamo chiariti quando succede perché più delle volte se sono piccoli abbandonano il campo e tornano a giocare alla fine con i bambini più semplici perché vogliono giocare ma il metodo è lo stesso anche come dire fra gli adulti insomma aiutare le persone a comunicare ecco a comunicare non possiamo eliminare i litigi pensiamo adesso il pranzo di Natale ecco uno dei luoghi più insidiosi no ecco io vi supplico non andate al pranzo di Natale con l'idea del regolamento dei conti finalmente no vedrò mia suocera e glielo dico quattro oppure vedrò mio fratello che non vedo da un anno no ecco e neanche preparatevi a fare i commenti più sarcastici queste cose fanno molto molto male dobbiamo progressivamente imparare a litigare bene sia a distinguere la persona dal problema e a contare fino a dieci quando siamo arrabbiati ecco questo è un po' stata anche la mia vita dal punto di vista peragò di Torisori il primo libro su questo versante addirittura l'avevo scritto negli anni 90 adesso un sito proprio anche un libricino questo no su io imparo a litigare per i bambini dai 36 anni con una storia bellissima che ho scritto con Marta Versiglia e ci sono dentro le indicazioni per i genitori perché aiutino i loro figli a parlarsi quando quando siamo in presenza di un litigio non a sgridarli non a fare i giudici non abbiamo bisogno in altre parole di di continuare nella ricerca del colpevole ma abbiamo bisogno di aiutare i bambini i ragazzi le bambine le ragazze a vivere la vita come continuo apprendimento ecco questo è il senso profondo della pedagogia come ce l'ha insegnata appunto la grande Maria Montessori io ho imparato tanto anche da Danilo Dolci Mario Lodi grandi amici e quindi peraltro di Mario Lodi nel 2022 ricorre il centenario della nascita quindi presumo che ci rivedremo e ne parleremo grazie mille professor Nuova per saperti saluto con noi e grazie dei consigli che ci ha dato grazie a voi augurissimi a tutti grazie a tutti